Ha suscitato consensi da parte del pubblico che ha gremito l'aula parco dell'Università Roma 3, la lezione è tenuta da David Diavù Vecchiato tra i nomi di spicco del panorama dell'Urban Art italiana. Il curatore del Museo di Urban Art di Roma ha presentato nell'occasione il progetto di dieci nuove opere destinate alla sede del Dams, discipline delle arti di musica e spettacolo con sede a Bologna. Dedicati al cinema e concepiti con l'obiettivo di portare questa nuova forma d'arte all'interno della dimensione universitaria italiana, interventi hanno rappresentato per Vecchiato un sogno che si realizza.